Ora lo scopriamo. Così, Marlene, pensa tu sia in me. È ora di mettersi al lavoro. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un effetto nella zona vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì. Sei scappata. Volevo esplorare la città. Ho incontrato un effetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e... Tutto quello. Capisco. Ehi. No, no, no. Scusa, escusa, sono stata io. Scusa. Scusa. Che razza di posto è? È un vecchio museo, queste cose hanno centinaia di anni. Ok, occhia la testa. Forza, via, 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 via. Marta. Joel! Joel! Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri! Marta. Marta. This. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va bene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.